Salve a tutti, ben ritrovati a questa nuova puntata di viaggio nella Digital Transformation. Sono Veronique Blasi e da sempre la nostra mission è cercare di spiegare i segreti e le modalità di utilizzo delle tecnologie in maniera semplice. Oggi parliamo di un argomento molto importante, la sicurezza informatica, la famosa cyber security che riguarda tutti noi. Ultimamente nelle ultime festività, quelle del 25 aprile e quelle del primo maggio, si sono intensificati i messaggi di phishing, ossia sono messaggi che vi arrivano da un numero sconosciuto, simulano di essere un figlio o una figlia, dicono di avere smarrito il cellulare e di avere bisogno di soldi per tornare a casa. Sembra impossibile che qualcuno possa cascarci, qualcuno venga ingannato. In realtà le persone che vengono ingannate e che mandano soldi sono tantissime. Quindi per cercare di evitare questo tipo di problemi, ma anche i problemi che possono nascere sul lavoro nelle aziende, abbiamo chiamato due veri esperti della sicurezza informatica. Come di consueto voglio dare il benvenuto ai miei ospiti. Parto da Piero Malfona, direttore della divisione di sicurezza informatica di Skyback Bonenginio. Benvenuto Piero. Grazie Veronique, salve a tutti. Grazie di essere con noi, grazie anche a essere con noi a Denis Cassinerio, Senior Director e General Manager di Acronis, uno dei maggiori player in tutto il mondo a proposito di sicurezza informatica. Benvenuto Denis. Salve Veronique e ben ritrovato. Noi ci siamo esatto visti da poco all'ultimo Hotel Day 2024 alla Dallara Academy. È sempre un piacere che tu faccia parte dei nostri eventi. In collegamento invece dalla Control Room di Skyback Bonenginio, l'ingegnere in sicurezza informatica, la giovanissima Giulia Anello. Giulia ci racconterà un po' la sua esperienza, del perché abbia scelto così un ramo poco femminile come la Cyber Security, ma ci magari svelerà qualche trucchetto per essere tranquilli quando utilizziamo i nostri device, che possa essere il cellulare, il computer, il tablet, insomma qualsiasi tipo. Benvenuta Giulia, grazie di essere con noi. Salve Veronique, grazie dell'invito. Saluto gli ospiti in studio e aspetto le sue domande. A dopo. Grazie Giulia. Ritorniamo in studio, parleremo con lei durante il corso della trasmissione. Piero, la prima domanda è subito per lei. Il 50% dei dipendenti delle aziende trascura di aggiornare i software dei propri dispositivi quando invece ce ne sarebbe bisogno. Mettendo così a repentaglio la sicurezza dell'azienda, anche perché gli attacchi hacking sono sempre più sofisticati. Quali sono le regole da tenere? Innanzitutto bisogna ricordare che la sicurezza informatica è responsabilità di tutti. Quindi si richiede ai dipendenti una collaborazione attiva per proteggere l'azienda da quelli che possono essere gli attacchi cyber. Un attacco cyber tipicamente si concretizza sfruttando le vulnerabilità dei sistemi. Quindi è fondamentale una strategia efficace di aggiornamento degli stessi. L'azienda ovviamente ha diversi compiti. Uno può essere quello sicuramente di sensibilizzare il personale educandolo sull'importanza degli aggiornamenti e sui rischi di una mancata adozione delle misure di sicurezza. Un altro è quello di implementare politiche chiare riguardanti gli aggiornamenti e far rispettare le regole a tutti. Poi c'è quello di verificare anche regolarmente lo stato degli aggiornamenti e di mettere in campo delle misure nel caso in cui trovi delle lacune. Capite bene però che se non c'è collaborazione da parte di tutti i dipendenti tutte le misure che l'azienda può mettere in campo vengono vanificate e quindi si sarà sempre comunque esposti a delle minacce. Grazie Piero. Quindi sempre nulla di scontato nel mondo della tecnologia. Dennis, quali sono le avvertenze che dobbiamo avere quando ci troviamo davanti al nostro computer in azienda? Il primo elemento è considerare quello che è il fattore umano. Se ne parlava poc'anzi, il fattore umano dipende da tante cose. Possiamo considerarla anche la primissima vulnerabilità alla quale dobbiamo fare attenzione. Dipende dall'età, dipende dalla dimestichezza con il materiale digitale quindi all'adattabilità o la disadattabilità digitale della persona che, ahimè, purtroppo anche nel corso, se vogliamo, della vita di una persona comincia a diventare un po' più complicata, più si cresce, più si raggiunge a una determinata età. Però è anche vero che lavorando insieme, quindi collaborando, uno degli aspetti fondamentali è quello di dare un valore all'informazione. Quindi classificare le informazioni, avere il concetto di classificazione è il primo elemento di attenzione che dobbiamo opporre. Secondo elemento è quello del controllo, sia il controllo da un punto di vista personale appunto sul fattore umano e sulla preparazione, ma anche i controlli che vengono applicati in azienda e soprattutto controllare la fonte. Quindi quando siamo di fronte al monitor dobbiamo sempre chiederci se la fonte è legittima, non è legittima, se questa fonte utilizza quelli che sono dei meccanismi conosciuti come ad esempio nell'ambito finanziario, la doppia, tripla, autenticazione. Sono meccanismi piuttosto soliti, insomma. E non dimentichiamoci poi di avere sempre una buona percezione del rischio. Quindi quell'informazione che sto gestendo, quanto mi pone a rischio, che cosa sto trasmettendo durante un collegamento, piuttosto che la stessa informazione che ricevo, che tipo di rischio può rappresentare. Quindi ci vuole un atteggiamento vigile, un po' come quando si guidano le vetture, insomma, quindi sia la patente ma l'atteggiamento vigile mi permette di non commettere incidenti. Grazie Dennis, ci ricolleghiamo con la control room di Skype backbone engine, dove c'è l'ingegnere Giulia Anello. Giulia, come facciamo a riconoscere quando ci arriva un messaggio tranello ed è vero che possono arrivare anche su WhatsApp? Come fare a riconoscerli? Beh, potrebbero essere messaggi fuori contesto, in quanto vengono inviati a centinaia di utenti in maniera automatizzata, o i mittenti sono composti da numeri molto lunghi, con prefissi internazionali, o ancora questi messaggi potrebbero avere errori grammaticali o delle frasi fuori contesto. Un tranello classico è quello di invitare gli utenti a cliccare un link per ricevere il regalo, un telefono, un computer o un bene qualsiasi. Beh, in questi casi vi assicuro che l'unico regalo che si potrà ottenere sarà un virus o lo scaricamento di un malware. In generale bisogna fare molta attenzione a verificare le fonti da cui arrivano questi messaggi. Ad esempio una truffa che sta prendendo piede ultimamente è quella che consiste nella mancata consegna di un pacco da parte di un corriere e si invitano gli utenti a riprogrammare la consegna di questo pacco. Se dovesse accadere questa situazione, gli utenti saranno tentati di inserire i propri dati, anche bancari ad esempio, e questo potrebbe essere molto rischioso, in quanto andremo a consegnare i dati a utenti malintenzionati. In generale se dovesse succedere di ricevere questi messaggi è molto importante nel fermarsi a ragionare, non andare nel panico e utilizzare sempre i canali di comunicazione ufficiali. Giulia, un'altra domanda per lei sull'invasività delle app. Noi ne scarichiamo sempre, sia per la nostra vita personale che per il lavoro. Le chiedo quanto sono sicure ed è vero che chi controlla le applicazioni ha tanti dati sensibili su di noi. In sostanza è vero che le applicazioni possiedono i nostri dati, ma spesso anche inconsapevolmente gli utenti condividono pubblicamente le proprie informazioni personali, come ad esempio l'indirizzo di residenza o la posizione in tempo reale. Questo potrebbe essere più rischioso rispetto ad un'applicazione che spesso ha molte più restrizioni. Grazie a Giulia Nello, ingegnere in sicurezza informatica di Sky Backbone Inginio. Vi ricordo che potrete seguire tutte le puntate anche sul canale YouTube di Sky Backbone Inginio, sui loro profili Facebook e anche LinkedIn. Piero, entriamo nella seconda parte della trasmissione di questo viaggio nella digital transformation per parlare del mondo delle app che più frequentemente noi usiamo. Allora, in questi primi mesi del 2024, neanche a dirlo, la più scaricata è stata ChatGPT. Al secondo posto sempre un'altra app di intelligenza artificiale generativa che è l'Ora, è a pagamento. Al terzo posto c'è un'applicazione tedesca, Handel, che genera musica con l'intelligenza artificiale. Poi abbiamo il nuovo social, Trez, e poi due app commerciali che sono Vinted e Temu. A cosa dobbiamo stare attenti quando scarichiamo le applicazioni? A un po' di cose. Sarebbe importante prendere alcune precauzioni di buonsenso, chiamiamole così, evitare di scaricare innanzitutto le app da fonti sconosciute. Questo aumenta il rischio di scaricare un'app che magari contiene un virus o un malware. Poi c'è quello di leggere con attenzione le autorizzazioni che concediamo a queste app. Quando installiamo un'app ci viene richiesto magari accesso alla fotocamera, accesso alla posizione GPS, accesso alla rubrica. Abbiamo bisogno di concedere tutti questi accessi all'app che abbiamo scaricato? Cioè sono indispensabili per il funzionamento di quest'app o sono eccessivi? Ecco, bisogna fare questo ragionamento. Poi, particolare attenzione, bisogna dare anche alla privacy quest'app dove tratterà i nostri dati. È sotto legita GDPR o sarà qualche server in Cina? Cosa ne farà di questi dati? Quindi, attenzione anche alle politiche sulla privacy. Poi c'è da mantenerle aggiornate. Gli sviluppatori periodicamente rilasciano gli aggiornamenti di queste app per andare a correggere eventuali bug. Ecco, mantenere aggiornate le app che abbiamo sui nostri device è una pratica molto importante. E installiamo di tutto con troppa superficialità. Questo fa la fortuna e sta facendo la fortuna di centinaia di app che ci rubano i nostri dati o di app contenenti troian bancari che invece trafugano i soldi dei malcapitati. E quello è ancora più grave. Quindi fare molta attenzione sono parole d'ordine assolutamente. Sì, sì. Insomma, essere consapevoli di quello che si installa e di come lo si installa. Sempre. Grazie, Piero. Dennis, volevo un suo parere su quelle applicazioni che utilizzano l'intelligenza artificiale per creare prodotti e bisogni. Che cosa ne pensa? Innanzitutto penso che sia una grandissima opportunità. Che però apre anche uno scenario di discussione in merito alla liceità dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale. Oggi la stragrande maggioranza della discussione sull'intelligenza artificiale quindi è relativa al controllo dell'intelligenza artificiale. E ad esempio sto leggendo un libro di Mustafa Saleman che si chiama The Coming Wave. Lui è uno dei fondatori di DeepMind e tre quarti del libro parla appunto del controllo dell'intelligenza artificiale. E questo però ci fa capire quanto gli esperti ci stanno dicendo che queste applicazioni da una parte portano innovazione e dall'altra parte portano dei rischi concreti che dobbiamo sapere governare. L'intelligenza artificiale ha iniziato ad avere degli input non solo indotti ma anche in autonomia. Quella generativa in questo momento ad esempio sta aiutando tanto nell'ambito della sicurezza per capire come reagire agli attacchi. È chiaro che il prossimo passo sarà la realizzazione della macchina intelligente, della super intelligenza e poi ovviamente la sostituzione degli umani con le macchine. Però siamo molto lontani da questi aspetti. Però è un percorso interessante e quindi è un percorso interessante che dobbiamo cogliere bene. È un percorso che gli esperti dicono non cancellerà posti di lavoro. IBM dice in un suo studio che dalla 2020 al 2025 saranno cancellati 87 milioni di posti di lavoro per crearne 97 che sanno utilizzare l'intelligenza artificiale. Grazie. Allora siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Grazie a Piero Malfona, a Dennis Cassinerio, a Giulianello in collegamento dalla Control Room. Noi ci vediamo settimana prossima. Parleremo di un altro argomento molto importante e forse un po' più sconosciuto ai cittadini che è il Piano Industria 5.0, ma un argomento molto importante che servirà per abilitare la cooperazione tra uomo e macchina. Grazie a voi di averci seguito. Ci vediamo settimana prossima. Grazie a tutti.